Dottore come si può arrivare a progettare di ammazzare membri della propria famiglia? Si può arrivare ad aspetti come questi ed è un po' una deriva di quello che la società odierna ci mostra rispetto a un'esaltazione, a un supporto, a un sostegno che offriamo alla parte narcisistica, alla parte egocentrica dei nostri figli senza sostenere altrettanto quella parte che è invece di conti che si fanno con gli aspetti delle norme, delle regole, del senso del dovere se vogliamo che costruisce anche il concetto di colpa ma anche il concetto di affettività verso le persone care. Laddove le persone care siano di ostacolo a un proprio progetto di vita si può anche pensare purtroppo di sopprimerle. Credo che questo possa essere forse in maniera cinica ma una lettura di quello che accade attualmente. Da carnefici a vittime perché in realtà stiamo parlando di minori, stiamo parlando non di adulti. Come fare adesso a riportarli in un percorso di rieducazione? La domanda è importante, interessante e qui si entra più direttamente nello specifico. La mia considerazione di prima era appunto generale, non assolutamente di giudizio su quello che in maniera dettagliata e specifica è appunto successo ma di questi due ragazzi è importante ora occuparci perché credo che un processo di appropriazione, consapevolezza di quello che stava succedendo è credo la chiave terapeutica dell'aiuto da offrire a questi ragazzi, è indispensabile lavorare assolutamente su questo.